Il ruolo dell'Università qui ad Agrilevante? L'Università ha ringraziato ufficialmente Federuna Coma nella persona del Rettore che ringraziava, il Rettore Entrante, il Professor Uricchio, e nella persona che presiede da anni di egregiamente Federuna Coma perché Federuna Coma ha dato molto spazio all'Università offrendole uno stand nel quale abbiamo avuto la possibilità noi dell'area di meccanica agraria dell'Istituto di Isat, costituita dal Professor Pascuzzi, dal Professor Santoro, dalla Dottoressa Tamburrino, è da me di far vedere concretizzati gli studi che realizziamo con dei prototipi di macchine agricole o di macchine per la trasformazione dei prodotti agricoli sui quali lavoriamo e che sono frutto dei progetti di ricerca che ci vedono impegnati. Abbiamo esposto un banco di taratura per gli atomizzatori che operano nei vigneti a tendone, abbiamo esposto una testata alleggerita per lavorare meccanicamente sugli olivi secolari e delle macchine per la produzione di vino, ovviamente piccole, per studiare tutte le trasformazioni che il prodotto subisce durante questa delicata fase, variando opportunamente i singoli parametri di produzione e quindi cercando di dare delle risposte anche in questo caso il più vicine possibile all'utenza industriale. Infine è una macchina appena nata in un progetto PON finanziato dalla comunità europea che non è ancora terminato, che realizza la distribuzione dei prodotti antiparassitari con un sistema automatico di regolazione dei volumi per unità di superficie da distribuire, quindi gli agronomi sono contenti perché la macchina distribuisce esattamente quello che la pianta vuole e con il recupero, torniamo al discorso del rispetto dell'ambiente e del basso impatto ambientale, del recupero del prodotto non andato a bersaglio che altrimenti dilaverebbe sul terreno e costituirebbe una fonte di inquinamento. L'università dal canto suo viene incontro a Federo Unacoma nel tentare di farle rivestire un ruolo sempre maggiore nell'ottica di una filiera che non è solo di campo ma di prodotto, nel senso che le macchine ormai nel settore agroalimentare non possono essere più proposte solo finalizzate a quello che fanno ma devono essere parte di una filiera di macchine che inevitabilmente deve andare dalla terra alla tavola, cioè l'interlocutore sui mercati internazionali, soprattutto quelli emergenti, è disposto a investire specie se gli viene data la possibilità di scegliere tutto il pacchetto di macchine fino ad arrivare, per esempio nel settore del vino, dalla lavorazione del terreno alla produzione della bottiglia. In questo modo la macchina si vende meglio e Federo Unacoma può e vuole con questa fiera in particolare agrilevante proporsi come catalizzatore fra i produttori di macchine agricole e i produttori di macchine per la trasformazione per andare poi sui mercati con un'offerta coerente, credibile e molto più vendibile in tutti gli anelli della filiera. Chiaramente gli espositori è difficile farli venire tutti insieme perché la successione delle fasi porta da una parte a tenere liberi, come in questo periodo, i produttori di macchine agricole, però dall'altra a tenere occupatissimi i produttori di macchine per la trasformazione, quindi l'università organizza degli incontri in cui almeno per uno o due giorni si discute e ci si conosce fra questi due anelli della filiera così importanti. Abbiamo organizzato un convegno sulla meccanizzazione della filiera vitivinicola in cui Federuna Coma ha riunito i produttori di macchine per la viticoltura insieme ai produttori di macchine per l'enologia. Ed è venuto fuori un discorso che ha gettato le basi su tante future collaborazioni che ovviamente devono essere proseguite in tutti i settori agroalimentari, in tutte le filiere agroalimentari come per esempio quella dell'olio di oliva, quella del latte e così via. Grazie.